Venerdì 27 giugno, alla presenza del giornalista Matteo Berti e dell'autore, è stato presentato alla libreria Cyber Mailbook Store di Firenze, davanti ad un vasto ed incuriosito pubblico, il nuovo romanzo di Simone Pesci, uno scrittore che, seppur giovane, non è nuovo sulla scena letteraria. Il romanzo, dal titolo Gioco perverso, edito da Sovera di Roma, narra le vicende di sette giovani che, attirati con l'inganno in una villa isolata e maestosa, diventano loro malgrado protagonisti di un gioco organizzato da un lord inglese. Il gioco, dalle regole crudeli, farà emergere nei personaggi cinismo, malvagità e cattiveria, portandoli a compiere scelte che neanche loro si sarebbero mai immaginati. Un romanzo avvincente, pieno di suspense, capace di mostrare le relazioni, i vissuti, i dubbi dei protagonisti, tratteggiati nelle profonde sfumature del loro essere. Simone Pesci, dopo la pubblicazione di alcune sillogi poetiche di una commedia teatrale, di una raccolta in prosa, ha proposto al pubblico un romanzo che, uscito da poco più di un mese, riscontra già un buon successo. Grazie a tutti.